Benvenuti signori e signori con Marco e Erika al Giobando on camera, live, non è live ma sarà live tra poco come l'altra volta, con Marco e Erika e oggi abbiamo un ospite specialissimo che è Federico Russo, è un grandissimo attore, è già famoso e oggi we're going to talk about pregnancy. Quindi Federico, vorresti avere figli? Sì, facci subito così, sì. Ok, quanti vorresti averne? Io ho cinque fratelli, come siamo sei, quindi tre, almeno tre, due maschi e una femmina. Eccellente, hai i buon figli, proprio l'idea. Proprio ce l'hai già, e che cosa dovrebbero studiare in materie scientifiche, letterarie, attori come te? Tipo, dipende quello che vogliono loro, l'importante è che siano felici. Bellissimo, bellissimo, fate quello che vi piace fare. Magari. Bellissimo, bellissimo, faccio un po' i verragilina. Saggezza, saggezza fatta proprio, stile pratico. Ok. Ok, su. Allora, come Marco diceva, Federico è un grandissimo attore, è iniziato da veramente piccolo piccolo piccolo, molti lo ricorderanno come il Mimmo nella grande famiglia dei Cesaroni, ma lui è iniziato ancora prima, quindi ancora da più piccolo piccolo. Esatto. E siccome hai iniziato da così piccolo, ti voglio chiedere, che cos'è che ami di più di questo lavoro? I rapporti umani, è bello. Cioè, è il modo in cui leghi, perché ti rispetto magari in ufficio, stai là da qualche parte. Non è la stessa cosa? No, no, cioè io anche con Don Matteo, se l'è che sto finendo adesso, i progetti e tutto, la meraviglia è stata che ho creato delle amicizie, dei legami bellissimi. Amici di Bologna, di Genova, di Milano, di Napoli. E incontri sempre persone nuove. Qual è la migliore amicizia che hai creato? A Bologna. Ok. Con questo amico che si chiama Saul Nanni. Ok. Lui purtroppo sa parlare inglese. Ok. Perché sta arrivando a Los Angeles, è stato. E con lui ho legato tanto, anzi, questo weekend lo vado anche a trovare. Ah, ok, ok. Allora potresti passare anche da Londra. Sì, facci un po'... Fai lo scalo. Facci i passi da Bologna, cioè, fai scalo, tanti voli fanno scalo là. Fai scalo, sì. E, ah, giusto, c'ho l'altro qua. Si può mangiare in diretta? Sì. Non è diretta, quindi. Ok, quali sono gli achievements, cioè le cose che hai fatto delle quali sei più fiero? Cioè, dici, questo è quello che ho fatto. I risultati che hai ottenuto. Allora, a me piaciò tanto quando ho girato con Liliana Cavani. Ok. Piccolissimo. Era il film in serie su Alcidio dei Gasperi e facevo il nipote. Bellissimo. Quello che mi è piaciuto tanto. Poi un'altra esperienza bella che ho avuto è stata con, ragazzi, proprio con Gianni. Ok, Gianni è iniziale, ma... Per l'Isola di Pietro. Grande Gianni. Sarà bella perché... È vero che ha queste mani... Enormi, sì. Queste mani... Se ti fa così... Eh, vale, se si è. È molto così. È stata una bella esperienza. Ok. Il personaggio era diverso, non facevo sempre il buono, così ho fatto un po' il cattivo. Cattivo. Quali ti trovi di più? Il personaggio cattivo e il personaggio buono? Grazie. Sei uno pericoloso o se uno... No, i cattivi sono belli, perché non fai delle cose che non fai nella vita. Cioè, è chiaro, è chiaro. Quindi ti diverti a fare delle cose, è bellissimo. Dice, ho spaccato il bicchiere in faccia. Ah, pensavo che era una recitazione, non l'avevano fatta apposito. Giustamente, giusto, giusto. Ah, io... Tu dicevi. Ah, we were saved. Però adesso basta. Questi sono i due progetti che ho fatto in assoluto. Ok, ok, ok. Parlando di progetti, quali opportunità stai cercando? Allora, adesso... Beh, ho già detto tutto per venire a Londra. Sì? Per l'inglese, per l'accademia. Cerco di migliorarmi più. Beh, è la prima volta che ci incontriamo, no? Sì, sì, quindi non avevamo mai parlato di questa cosa. Ma potrete vedere la cosa di Londra su un'altra intervista che ce l'abbiamo. Esattamente. Mi parlerà di Londra in un'altra. Ah, è perfetta. E ci abbiamo dei progettini che abbiamo parlato. Come cose... Va bene, non possiamo odiare, non possiamo odiare. No, siamo gli unici a sapere che verrà a Londra. Esattamente. Se vuoi saperlo, chiamateci. Ok, tu dicevi? Io chiedevo sì per l'opportunità stai cercando. Questo, di migliorarmi artisticamente il più possibile. Migliorarmi artisticamente, perfetto. Ok. Ok. Cosa fai per creare questa opportunità? Ogni giorno. Qual è il tuo quotidiano? Cosa fai? Alla mattina? Oggi? Come andava? La giornata tipica? Federico si alza, cosa fa? Ho stirato i panni, non so se... Prima della colazione. Ho letto, ragazzi. Non so voi, ma... Allora, veramente invidiabili. Anche io non lo stiro. Quanto riguarda la recitazione, cerco di rendermi sempre più aggiornato su quello che c'è in questo mondo, in questo campo. Vedo un sacco di film, un sacco di serie, un sacco di interviste. Ok. Così poi adesso mi sto informando per preferirmi a tutto quanto. Ok, ok. L'encademia e tutto. Espansione pure sul continent inglese? Sì, sì, sì. Così diciamo. Vengo aggiornato su questo mondo, su tutto il campo. Ok, eccellente. Cioè, comunque al mattino fai colazione. No, non mi interessava quello. No, prima di stirare i panni. Faccio colazione e poi si ripagno. Ok, perfetto. E poi dopo i film, o guardi i film durante. Esatto. Ok. Cicino, pranzo, ceno. Col film, quella di serie. Sì, sì. Ti capiamo. Quello ci sta, ci sta. Quindi sicuramente guardare tanti film e guardare tante serie è parte del riuscire a creare quelli opportunità giuste, studiare il personaggio. E senti, quindi dicevamo inglese, così così, giusto? Dicevi? Sì. In quale ti cimenti o slash ti piace? Parlo, varto col genovese. Ok. Aspetta, aspetta, no, perché ci abbiamo tre linee. Però questo è, insomma, pensi di riuscire a fare un accento inglese-genovese? E lo fai in inglese? Ah, oggi posso leggere. Ti vuoi questa qua, no? Questa qua. What can do for you? Esatto. Bli, cioè. What can do for you? In genovese. Cioè, dai, Bli. No? Bravissimo. Ok. Vabbò andiamo là. Secondo me potrebbe essere una roba che... Ci sta poi, vedete voi. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ragazzi, anche l'inglese-genovese. Anche l'inglese-genovese, quindi... Se siete produttori, state cercando non solo inglese, ma genovese, sapete a chi chiamare. Ok, ok. Questa è andata fatta in tre maniere diverse. Questa è attraversando la sfida. Questa è la sfida, questa è la sfida, il gioco che va rifatto ogni volta. Allora, quindi ci abbiamo. Proviamo a fare una linea con tre mozioni diverse? Esatto, esatto. Allora, facciamo Walk and I do for you, che è in italiano, eh? In italiano... Cosa posso fare per te? Ok. Cosa posso fare per te? Tre mozioni diverse, anche barra accenti, barra interpretazioni libere. Anche animali, anche animali. Accettiamo tutto. A tua discrezione. A tua discrezione. Vai. Stanislavski della mutua, come lo chiamiamo noi. Cosa posso fare per te? Cosa posso fare per te? Cosa posso fare per te? Eccellente. Favoloso. Quindi abbiamo... Tu stavi. Adesso abbiamo un'altra sfida. Vai, ci sono. Vai, vai, vai. Un'altra sfida. Tu sei bellissimo che durante le audizioni ci possono chiedere di piangere su richiesta. Ah, è vero. Su richiesta. Io ti faccio iniziare a... Preferisci iniziare a piangere o iniziare a ridere? Iniziare a ridere, vabbè. Poi piangere. Parto, allora, tipo dal fermo. Ok. Questa è il fermo? Parola. Eccellente, eccellente, veramente. Favoloso, favoloso. Giusto? Quindi, su cosa stai lavorando al momento? Adesso sto affinando Don Matteo. Ok. Finiamo il 20 febbraio e poi... E c'è avuto pure... Sì, la conferma che ci sarà la seconda stagione dell'Isola di Pietro. Favoloso. Favoloso. Thumbs up. Thumbs up. Perché sono di Sant'Antio, che sono felicissima. E lei è di Sant'Antio, per chi non sapesse. Erika è di Sant'Antio? Tu sapevi? Tu sapevi, sì. Sì, sì, sapevo. Lo sapevo. In realtà, ho iniziato a parlare con il tuo papà, con queste chiacchiere. E io ho detto, tu stai a Sant'Antio così, ah. E sono di là. Ma è bello, si mangia un buon pesce. Stavano per portare là. Sì, sì. Ma vieni, ti faccio vedere adesso. Sì, sì. L'isola è stupenda, però soprattutto guardate l'Isola di Pietro. Sottigato. Non appena... Sottigato. Riguardate la prima. Metterai dei selfie sui tuoi social, su Instagram, mettere dei selfie dell'Isola di Pietro? Perché no, si capito, sì. Qualche scimata, qualche cosa. Qualche scorcio dell'acqua, dell'acqua trasparente. Sì, vediamo qualche live. Mi metto a fare un po' di whirl. Ok, ok. Piatti tipici, se conosci già qualche piatto tipico sardo? O piatto tipico sardo di Sant'Antiogo, sempre specifico? Sant'Antiogo cos'è che ho mangiato? Io sono sincero, non ho preso cose particolari, però ho mangiato veramente del buon pesce. Quello sì. Quello è proprio... Sì. Allora, quali suggerimenti daresti a chi vuole fare l'attore? A chi sta iniziando adesso, adesso? Allora, adesso, adesso dico, le accademie sono importanti. Questa è la prima cosa, il fatto che io voglio spiegare, trovare... Tu ancora vai, nonostante tu sei già, comunque, posiziato benissimo. E' già dentro le TV series, fai già un sacco di cose. Ancora vado, insomma. E poi più che altro è seguite il vostro istinto, perché è la prima cosa. Seguite le accademie e tutto, ma ognuno ha la propria particolarità, ognuno, diciamo, ha la propria bellezza, le proprie qualità. Quindi seguite il vostro istinto, però con una cultura dietro e con una formazione. Bravissimo, bravissimo. Sì, bravissimo. Questo è tantissimo anche il modello inglese, perché infatti loro hanno tantissimi attori modelli, tutti fanno accademie, si specializzano, vanno avanti. La preparazione e mantenete la vostra unicità. Esatto. Esatto. Questo era... Perfetto, adesso abbiamo un altro paio di domande. Vai, ci danno, ci danno. Senti, se tu fossi invisibile, qual è la prima cosa che faresti? Lo dico sinceramente, una cosa che fa ridere, però è vero, io ho la vicina accanto che rompe le scatole, perché ha tipo il lesto, mi staccherei proprio la corrente la sera o così, perché a me l'ha fatto uno, due, tre volte, mi sono un secondo la mattina, non avevo più la luce e tutto il resto. Scendo, vedo i contatori atenti, vedo solo il mio abbassato. E io mi sono fatta questa, perché ogni volta rimaccio dopo un nato, guarda, sto dormendo, ma non è che se vedo un film alle due di notte... Se potrebbe fare un film su sta cosa, diventi visibile e fai cose semplici che no. Però posso suggerirti, ho visto l'altra volta, c'è un nuovo giubbotto cinese che puoi mettere praticamente... Che ti rende invisibile. No, indossare ti rende invisibile. No, è vero. Per cui, guarda sui film, se riesce a rincherarlo... Non so che tecnologia usano, però... Sai, i cinesi stanno sempre avanti, no? Lo indossi... Già, Sammi. Eh, loro... E metti completamente con me. Favoloso, favoloso sta cosa, eh. Adesso, è il prossimo acquisto. È quello, è quello. E, certo, è così. Io invece vorrei chiederti se avessi una bacchetta magica e potessi scegliere il ruolo dei tuoi sogni... Che vorresti fare adesso? Domanda più seria, Dottinente. O poi il futuro? Farei un personaggio tipo Christian Bale in The Fighter. Bello, quindi è tipo bugilata, sì, perché tu fai kickboxing prima bugilistica, perfetto, sì, quindi già sapresti come... Un po' di guardia o qualcosa... Esatto, esatto, già vedevo che... Esatto. Mi faccio così, mi slovo col collo. Parlando di sport, che mi fai? C'è bugilistica? C'è bugilistica, pallannuoto, judo e calcio. C'è tutto e calcio. Sì, sono bello perché sono tipo just in Timberlake, questo l'ho messo, però... Che caro! Esatto. Gli abbiamo fatto di corsi di danza, di canto, poi con i miei amici ogni tanto spiamo dei corti, delle sceneggiature, delle cose indipendenti. C'è un passo che vuoi fare di danza e vuoi mostrare? Adesso tipo tip-tap, roba del genere. Guarda, io a vedere anche questo. Ci piace, ci piace l'intenzione. O canto, canto, un don, un giro di don. Eccellente, io già so, io già so. Ho fatto tutte le sfide, pure in più. E senti una cosa, se tu fossi un animale, che animale saresti? Un lemure. Un lemure? Ok, quelli che stanno al sole, no? Sono particolare. Che stanno a morire, ragazzi, tutti questi chiocchioni. Ma lo sai che è fortissimo, infatti, e poi a Roma è perfetto perché c'è il sole. Poi con l'occhiale, magari, tipo tipico romano. È bellissimo. Però è dolce il lemure, non è? È carino, è coccolo. Difficile vederlo con la capezza o... Sì, sì, sì. In Tailandia c'era un lemure che c'era questo qua, andava iniziato a fare la foto con questo lemure. Io l'ho preso, c'era lo stocchioni così. E ho detto, tu se posso prenderlo. Fantastico, fantastico. Posso fare il legale, tipo... Ah, portare animali? No, il legale è proprio farci le foto con questi qua che prendono il lemure. È una cosa illegale. Adesso è una cosa bella perché c'è stato uno scoop su Rihanna, che gli hanno fatto una multa perché l'aveva fatto una... A Rihanna? A Rihanna. Madonna, è impressionante, ma... C'hanno proprio un avvocato degli lemuri. Scusi, lei sta importunando un lemore in tailandese che non so com'è. Forse perché per loro sono sacri... Sì, sì, oppure una specie di distinzione. Sì, sì, quella della... Sì, perché ogni paese ha proprio animale sacro. Noi che animale abbiamo, lo sacro? Una burchetta. Ma noi quando è sacro ce lo mangiamo, eh? Non è come in India con le mie... C'hanno i cani liberi, però... Esatto, esatto. Poi niente, c'è questa domanda, ma non la faccio. Hai un'altra domanda peculiare? No, dice se l'amore è cieco, perché l'ingeria è così popolare? L'ingeria è... Ma infatti non c'era senso. L'ho detto no, facevo male. Ehm... E' un'altra particolare. Quali sono i sogni che fai più di notte? Cosa sogni? Che hai vinto un Oscar oppure... L'ho avuto per un periodo che è vero, che poi ho detto, ma che è vero... Ma adesso do qui una cosa un po' più profonda così, che per due settimane ho sognato me stesso. Ok. Però tipo alti rego. Tipo che c'ho gli occhi azzurri, i capelli neri. Vabbè, c'erano i verdi. Era una cosa simile. Era un mix strano. Se vuole farlo in post-production se vuoi, cambiamo. Vabbè, diventa tipo, faccio l'occhione alla DiCaprio. E che andava in giro in questa modo e faceva le cose che avrei voluto fare io, però che non avevo il coraggio di fare. Tipo... E quindi era scemo. Forse potrebbe essere il tuo figlio, che non so, lo sai. O l'alte rego. Vero, vero, sì, sì. E tu hai una ragazza, giusto? Sì. E lei ha gli occhi chiari? No, no, lei è tipo olivastra, scura, con i capelli neri. Ah, ok. Quindi chances che... Però potrebbe portarlo recessivo, nel genere, sai, la chimica... No, la chimica... La biologia pure. Ci potrebbe stare, quindi lo porti nel tuo bagaglio. Sì. Quindi ragazze interessanti... No, vabbè, no. Con gli occhi azzurri. E con la tua ragazza ha lavorato insieme, la coinvolgine... Allora, noi, la cosa interessante è che noi ci siamo conosciuti sul set. Ok. Noi ci siamo messi assieme così, perché facevo la mia ragazza. Diventa la mia ragazza, veramente. E sì, scriviamo di corti, ci consigliamo i prodini e tutto il resto. Lei, infatti, adesso, quest'anno è andata in America. A New York per l'inglese e tutto il resto. E torna il 20 febbraio. Ok, per questo tu pensi di fare competizione su Londra, così? Sì, no, no, io l'ho detto, io vado a New York, io da Londra. Quindi non so se... Esatto, esatto, esatto. Ci siamo divisi, la divisi. Siamo perfetto. Vi scambiate l'audizione? Tipo, oh, cercherò una ragazza e vai tu. No, 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 secondo me... No, no, è bene. Parlando di progetti, allora, domani è... No, non è domani, è giovedì, che ti potremo vedere... Su Don Matteo. Don Matteo. Don Matteo. Quindi seguitelo nel ruolo di Seba. Seba. Se non sbaglio. Sì, esatto. Seba? Sì, allora, Seba. Siba, ma... Seba, con tre B. Seba, seba. Oh, ma adesso è quello che fa Seba in Don Matteo. È molto così. Che classico, vabbè? Sì, sì, sì. Tipico accento pure di... Bellissimo, perché poi i miei personaggi non hanno un cognome. Cioè io, non so, sono Sebastiano, tipo i calciatori. Non ho cognome. Vabbè, ce l'ho bella. Vabbè, scrittori poi decidono queste cose. Quatt'altro sì, che piaccia. Senti, se arrivasse adesso un genio, un genio della lampada. Sì, desiderio. Non un genio, un'intelligente. Ti chiedesse i tre desideri. Quali... Più alto, meno goffo, perché... No, no, ma non è vero, no, no, no. No, perché ragazzi, voi lo vedete dal vivo, cioè, c'è un viso fantastico, cioè, non ce sto a provare. No, 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 mi vergogno. Assolutamente. E voi devo dire, voi ora lo vedete con il camicino, il maglioncino, ma aveva anche un cappotto stupendo. Il cappotto color cammello che personalmente lo amo, lo adoro. Ed era veramente un genio. Stupendo. Ma vuoi regalare? Non so, non portiamo la stessa taglia, sei un po' più basso. Allora, al massimo, faccio sarti, se hai, facciamo la cuora pure loro. L'ultimo... Vincere l'Oscar. Ma ragazzi, veramente, qua abbiamo toccato quello che dobbiamo toccare in maniera professionale. È al più presto. Giustamente. Magari. Noi ti seguiremo. Guarderemo, saremo in fine ad intervistarti in posto Oscar. Vai, vai, ci sono. Per il discorso, guarda, di giù, io voglio star là, facciamo insieme, lo prepariamo. Secondo me è più... Ok, thank you, mamma. You know who you are. Sai chi sei. Non so, sì. Non so, sì. Per esempio, tipo, da mare o da montagna? Mare. Mare? Mare interiore. Mare, quanti gradi? 35 gradi sul... Oppure una cosa tipo freschetto, tipo 24? Su 38. Non arrivi su 40, no. Quindi tipo salmon. Sauna, sì, esatto. Sauna. Allora, sì, sì, sì. E senti, se tu fossi stato un personaggio invece dei cartoni animati, quale saresti stato? Bella questa. In mia madre, sempre i paper pan. Perché volava? No, perché sognava. Perché cremina, quindi è scema, quindi dicono... Beh, no, lui spingeva le persone a fare i loro sogni, quindi è bello, è bello. Bellissimo paper pan. Ed è anche per questo che verrai a Londra. Promesso. Esatto. Vero, vero. Partiamo da Big Bang e voliamo insieme. No, vogliamo via. No, vogliamo via. Andiamo ad Hyde Park accanto alla strada di Viglia. No, no, prego. Vai, prego. Ah, certo. Sono in attesa della tua prossima domanda. Questa sarà... No, 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 lo so, lo so. E... Ipocondriaco. No, io pure, guarda, è passata la settimana cominciò. No, 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 no. Sai quando cominci a grattarti? Sì, ti dici, ti dici, ti chiesti che so. Ecco, là dico, vabbè, forse è il caso di lavarsi a pezzi almeno, almeno iniziare. E quanti libri leggi l'anno? Tre. Ok. Tre e quattro. Comici o seri, drammatici? Sì, sincero, introspettivi e opere teatrali. Ok, ce l'ho letta. Ah, bellissime. Opie teatrali, quelle proprio... Essere o non essere? Sì, sì, ho letto il mio ottimo mangiulietta, Amletola, quelle della Tempesta, Uno e Suo Centomira. A me è interpretato uno di queste... Ma magari ne piacerebbe, però, tipo, un solito della vita. Fino a che invece adesso ho più avvito di leggere Norvegia's Bunda, di Murakami. Ah, ok, bello, bello. Applausi su questo poi. Alla lettura di un pre. Ok, anche se sai, da attore, trovo molto bello guardare proprio i TV series, perché guardi proprio i personaggi, guardi proprio come fanno le cose, quindi forse fa pure più del libro, devo dire. Sei più uno che spende o uno che salva? Salva, perché sì, con mia madre, siccome eravamo tanti a casa, c'era molto la cosa, tanto i soldi, risparmiamo, dobbiamo fare questo così e me l'ha dato, diciamo, molto... Cioè, molto l'impronta di... Sì, anche sui acquisti non sono uno che spende tantissimo. Nel capito, il cappotto, quello il cammello che ami, l'avrò pagato 30 euro. Quello vabbè, 5 mila, però, per il resto... No, uno 30 euro da Zara. Ah, ok, ok, ottimo. La Zara c'è bella roba, comunque. Non facevo pubblicità, non siamo stati pagati per dire questo. No, no, assolutamente. C'è che dopo... Ok, però bravo Federico, su questa cosa, salvate pure voi soldini, non buttate su cose che non servono, in realtà, perché c'è molto spazio. E poi, credi in Dio? Mi vede di emozioni, io direi, la cosa più importante, no? E poi, credi in Dio? Ok, manco io, eh. Ah, ok. Guarda, 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 guarda. Ah, ma che mai salvato. Non c'è cosa? Non c'è di Dio. Ok, perfetto. Ok, avevamo un'altra. È infinito, le stavo andando a ruolo. Quali... Lì ha un book speciale, solo delle domande particolari. Bello, però, così. Basta, basta così, abbiamo fatto abbastanza. È giusto, è giusto così. Ok, ragazzi. Allora, vogliamo lasciare un messaggio su dove ci possiamo vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, così la nostra oggi si può seguire. Esatto. Ci vediamo su Don Matteo, sulla Rai LGBT, poi inizierà l'Isola di Pietro e il mio idro del resto a Londra, ti spero. Eccellente, eccellente. Sarà con noi, dato che avremo altre interviste in inglese tra poco, anche per il settembre, ottobre. In inglese tra poco, lo vediamo in qualche progetto su Londra, tra poco. Esatto. Vogliamo lasciare il tuo Instagram, così ti possono seguire. Io ho solo Instagram, che è russo-federico, e ci vediamo anche là per notizie e cose varie. Eccellente, ragazzi. Per il resto, sottoscrivetevi sul nostro canale, Giovanni Camera, ci vedete veramente super super felici. Fate anche mi piace, c'è anche il bottone mi piace, fate tutto, sottoscrivetevi, mi piace e rischeratelo, ricondividetelo, ricondividetelo, perché è sempre più bello crescere e poter fare sempre più di queste cose, e ne avremo altre qui con Federico pure. Federico, grazie mille per essere stato con noi oggi. Grazie mille a voi. Grazie, Federico. Grazie mille a voi. I baci ci vediamo dopo. Dopo, dopo, dopo. Adesso siamo un po' strumenti. Grazie mille, Caffè e Valadie anche, per averci dato l'uso del posto. Ragazzi, grazie per averci visto. Un abbraccio a tutti. Vi auguro una buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.